Il centro di accoglienza per immigrati di Apriliano, Cosenza, chiude i battenti non per volontà degli amministratori, bensì per ordine della procura che ieri ne ha disposto di sequestro preventivo. Il proprietario dello stabile e il presidente della Sant'Anna, la cooperativa, che gestisce il centro d'accoglienza risultano al momento indagati per abuso edilizi, furto di energia elettrica e un episodio di falso che riguarderebbe il certificato di agibilità ottenuto dalla struttura. Al vaglio della squadra mobile di Cosenza però ci sono anche presunte anomalie rilevate nei registri presenze, nonché l'idoneità complessiva del centro, ritenuto fatiscente e in pessime condizioni sanitarie, al punto tale da spingere gli inquirenti a operare un sequestro d'urgenza per evitare guai peggiori. Il cara di Contrada Spineto, infatti, era finito nella bufera già un mese e mezzo fa a seguito della protesta di alcuni suoi ospiti che lamentavano le condizioni disumane in cui erano costretti a vivere. Un'ottantina in tutto, stipati anche negli scantinati e con servizi igienici ben al di sotto dei limiti della precarietà, avevano fatto passare un brutto quarto d'ora ai dipendenti della cooperativa incaricati di provvedere ai loro bisogni. Nei giorni successivi alla rivolta, buona parte dei migranti era stata trasferita in altri centri e ieri, dopo aver apposto i sigilli alla struttura, la stessa è stata sgomberata del tutto. In precedenza, all'attività dei magistrati, si erano affiancate anche le denunce delle associazioni e il raid del senatore Cinque Stelle Nicola Morra, che recatosi in vista ad Apriliano, lamentò poi di essersi visto negare l'accesso agli interni da parte dei dipendenti della cooperativa. Il giro di denaro, movimentato nell'arco di un anno e grazie ai soldi ricevuti dallo Stato per provvedere all'assistenza dei profughi, era di circa un milione di euro. Una curiosità, la Sant'Anna risulta anche titolare, tra gli altri, delle Primadi, un locale notturno della città di Cosenza. L'unica movida visibile ieri ad Apriliano, però, era solo quella degli agenti in divisa? L'inchiesta intanto è solo all'inizio.